vabbè a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi siamo su un nuovo video di spiderman iscrivetevi al canale e reggiamo 5.10 si lo so e anche show black cat e biciò Non mi chiede qualcosa, non mi chiede. Non mi chiede, 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 non mi chiede. Non mi chiede. Non mi chiede. Non mi chiede, 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 non mi chiede. Non mi chiede. l'uomo si stia bene sicuro scommetto che roppi sarà un entusiasta si è diventata libera, entri questa e sinta ospona nascita che oggi ci insegnerà come l'agente di pesce wow aspetta, è in comizio di ospone oggi ma perchè ha detto martilli la cosa migliore di me non L'angolo, non me frega. Mi senti uno. Cosa sarebbe New York senza lo spazio? No. Ehi ragazzi, avete ricette per quella roba? Un colpo? Ma che è? No vabbè ragazzi, ma voi mi dovete umiliare sotto nei commenti. Non è possibile che muoio con questi criminali e non sono morto nella scorsa puntata con... Un colpo? Come si chiama una roba? Ok. Stanno sparando, ok? Ci sono i demoni! Lo sapete. Trovate lì, devo morire. Quanto amare il demoni è un invaso al territorio edificio. Ci presentiamo. Tranquillo. E tu lo eliminiamo. Questo è un po' pericoloso. Questa è un'altra cosa. Lo eliminiamo. Ok, questo no. Poi andiamo di qua. Andiamo. No, no. Ragazzi, è la prima volta che faccio set. Mi diciamo, gente. Vabbè, lo eliminiamo così. Ok. Dovete morire. Cioè, vado. Ok. Padreически. Oh, no. Cosa. Cosa. Poi. Poi e il brocco. Poi. Questa. Necessità? Poi. Ciao amico Ah che ci sono vai vai ciao ma questa è la gomma è fisca tutto ucciso ok spiegato bravo stai dai dai non devo trovare se che puissi non 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 Oh che vero? Oh che vero? O devo stare a piedi? Vai forza ti compro io! Oh che vero? Ah! Ah! Oh! Molto dal, la la! Ah! Eh? Molto! Eh? Eh? Oh, 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 oh. Ragazzi Scusate che mi sono tolto le cuffie Perché mi hanno chiamato un attimo Come sempre Ogni video che faccio Di Spider-Man che mi chiamano Vabbè ma Uno di vita scappa Scappa Ok abbiamo recuperato un po' di vita Sì come no Credete di passare la liscia con Fisk Siete già morti Non può scapare Fisk vi ammazzerà Vi farà a pezzi Lo facciamo così BAM BAM Ciao 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 amico No 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 Sì, vabbè. una palla dissuttiva no mamma mia spalla no mamma mia spalla no mamma mia spalla lo so ci sto provando ci sentiamo troppo cioè io che proprio antipatico noc No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.